buongiorno a tutti oggi volevo informarvi che youtube dal 12 settembre cancellerà la possibilità di inserire i video risposta nei commenti degli utenti youtube infatti è stato scoperto che comunque l'utilizzo di tale possibilità dei video risposta era usata una percentuale dello 0,0004 per cento quindi veramente mai utilizzata infatti solitamente anch'io quando faccio i video rispondo con un altro video non faccio un video di risposta all'interno di un commento solitamente e comunque per ovviare a questo problema finalmente sarà introdotta la possibilità di inserire link nei commenti ai video infatti non so se lo sapete ma io quando qualche volta vi rispondo non posso inserire dei link anche già citati magari nella descrizione perché perché non permette di inserire link youtube e google di conseguenza quindi niente volevo informarvi di questo l'ho scoperto grazie ad un articolo che avevo letto durante le mie vacanze su un articolo di tech genius vi lascerò l'articolo in descrizione vi ringrazio per l'attenzione al prossimo video